Sono parole di chi si sente a casa, quelle di Papa Francesco e il popolo argentino. In un videomessaggio ha risuonato di non poter visitare il proprio paese il prossimo anno per impegni già presi in Asia e in Africa. Per me il popolo argentino e il mio popolo, ha detto Papa Bergoglio, voi siete importanti. Io continuo ad essere argentino e ancora viaggio con un passaporto argentino. Sono convinto che come popolo siete il più grande tesoro che ha la nostra patria. Una patria che va presa sulle spalle, che ha bisogno di ogni persona per migliorare, crescere e maturare e che in questo modo, ma anche attraverso la preghiera e la buona volontà, potrà favorire una cultura dell'incontro che supera quella dilagante dello scarto. Ricordando i festeggiamenti del bicentenario, ma anche la prossima beatificazione di Mama Antula e la canonizzazione del prete e gaucho cura brocero, ha affermato che il tesoro più grande dell'Argentina è il suo popolo, che il Papa rispetta, ama e porta nel cuore. Infine l'invito nell'anno della misericordia a compiere opere concrete per fare del bene a tutti.